Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui dalle sale del Bobby Center di Bernon. Come vedete davanti a me 18 giocatori ancora impegnati ai tavoli per quanto riguarda il main event. Qui a lato potete vedere anche il side che nel frattempo ha raggiunto anch'esso i due tavoli left mentre invece qui alla nostra destra si sta svolgendo l'ulteriore side, appunto, knockout dove sono impegnati Ronnie e il nostro boss. Andiamo rapidamente ad inquadrare i bui che ci dicono che siamo arrivati al livello 7.000-14.000 con l'anti a 1.500 con ancora 18 player left e un average che si attesta attorno ai 291.111 gettoni. Come vedete il prossimo livello sarà 8.000-16.000 quindi attendiamo di vedere poi chi riuscirà a raggiungere il tanto ambito Final Table. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti della sala, come sempre pocaditaliaweb.org per seguire l'evento in esclusiva. Ciao a tutti!